Non era molto, un terreno incolto e le pareti inoltre di una costruzione vuota. In quel momento Miriam e io capivamo definitivamente di essere le uniche sopravvissute della nostra famiglia. Non so per quanto tempo restammo lì, mute e immobili, svuotate. In quel vuoto ribidi mia madre sulla rampa di Auschwitz, lo sguardo pieno di disperazione e il braccio stretto intorno a me e mia sorella nell'ultimo inutile tentativo di proteggerci. Eravamo sole. La casa imbrattata dal piantarino al tetto era un guscio vuoto. Non c'era più niente, avevano rubato tutto quello che poteva in qualche modo essere utile. Mobili, tende, stoviglie, tavoli, tutto. Trovai solo tre foto strapicciate sul pavimento di legno, le raccose e le conservai. Una in bianco e nero è l'ultima immagine in cui tutta la mia famiglia è riunita e risale all'autunno del 43. Rimaniamo qualche ora tra le rovine. Alcuni abitanti del paese erano davanti alle loro case e ci guardarono in silenzio mentre andavamo via. Nessuno ci venne incontro. Ero arrabbiata con quelle persone, per il loro silenzio e la loro freddezza, ma non dissi nulla. Per i successivi cinque anni, dal 45 al 50, Miriam e io abitammo da zia Irena, che avevano un appartamento molto spazioso a Clui. Anche lei era sopravvissuta ai nazisti, mentre il marito e il figlio erano scomparsi. Si era risposata con un uomo che, come lei, aveva perso l'intera famiglia. In quel periodo, possedere una casa grande non rappresentava alcun vantaggio. Anzi, la Romania era occupata dai comunisti e qualunque ostentazione di ricchezza rappresentava, per così dire, un affronte nei confronti del popolo. Spesso la polizia segreta confiscava i beni per distribuirla ai contadini. Regnava un'atmosfera di minaccia e impotenza, per molti aspetti simile a quella che si viveva durante il nazismo. L'inflazione cresceva quasi di ora in ora. Ricordo una volta che per prendere un po' di pane rimasi in coda per cinque ore e quando finalmente riuscire ad arrivare davanti al negozio, i proprietari decisero di interrompere la vendita. Quel giorno andai a casa senza niente da mangiare e per il resto della settimana non ci fu alcun cibo disponibile. Di nessun tipo. Il governo si affrettò ad attuare una riforma monetaria, ma non bastava. I prezzi dei prodotti alimentari continuarono ad aumentare e gli stavano a abbrontolare. Grazie. Grazie. Grazie.